buongiorno italia benvenuto in val padovana cavolo piove anche oltre che la nebbia e tu e tu e dai facciamo un giro dai cane pigro italia i lavori continuano un po tipo a random no però è giusto è come le telenovelas tipo beautiful no cioè non è che rizzo brisa la e si mette insieme a una dopo e finisce il discorso dopo toccare un altro o dopo toccare un'altra tosa eccetera 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 no cioè c'è tutto un insieme di storie casini che vanno avanti nelle puntate e quindi anche noi se vogliamo un attimo riproporre il beautiful del camperista dobbiamo fare così quindi adesso e quindi adesso siamo nel laboratorio di Mirko perché cosa dobbiamo fare? tac il tavolino e tu mi dirai cosa cosa c'è da fare il tavolino e dopo dopo vedi intanto come intermezzo ti puoi succiare il sobrio impianto delle portiere di Camillo che è il furgone di Mirko eccolo ritornato questo è il famoso passacavi con le prese usb jack audio ma soprattutto con le due memory ossia quella della sony e la micro sd della gopro perfetto allora si pensava intanto di fare il buco e io direi di metterlo qua questo è il lato sinistro della tavola 3 e mezzo circa 3 e mezzo più dopo e ho perso un bordino quindi adesso ti assenti si direi di si 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 e dopo un attimo i cavi anche da far correre per sotto eccellente quindi rifacciamo il punto centrale col punterino in modo tale da appoggiarsi il trapano con la punta da fresa e si procede a qua qua la vedo molto molto dura sto dicendo si procede per fare il buco perché perché questo tavolo a parte che è parecchio più un bel po' più spesso secondo me delle panche che abbiamo fatto no ti ricordi le puntate precedenti ma magari sbaglio mi sembra estremamente più duro più robusto non lo so magari sbaglio ah è vero Mirko giustamente dice siamo qua in laboratorio quindi passiamo alla cavalleria pesante dice quindi significa il trapano a corrente a 220 no quello a batteria è più tenero? si però non sboccia quindi bene ah guarda cosa ho visto di questo passacavi multimediale che ho preso no c'è anche l'alimentazione tu dici a cosa serve serve solo esclusivamente o in caso in cui attacchi magari questa presa un hub non alimentato con già tanta roba su che allora non ce la fa tenerlo o più semplicemente per poter utilizzare le prese usb col computer spento nel nostro caso non mi interessa assolutamente niente e la faccio senza alimentazione porca miseria è un tavolo molto fino due centimetri e mezzo a occhio e metti vuoi appoggiarsi un elefante o qualcosa insomma puoi no no due centimetri e tre vabbè scusa ho sbagliato i due millimetri occhi vabbè capito se vuoi non va però non so dopo quanto stanto che faccio quindi che ne monta di mattina per sicurezza quando a montagna non va a maumeto ma aumeto va a montagna e ditta qua a palma a maumeto esatto per qualsiasi riferimento puramente casuale cercare su youtube cancaroman è tanto perché non si muovo una sessina insomma sai cosa vuoi venire fuori? ho potuto collaborare oppure no adesso? quando mi collabora si fa così si usa cox e poi adesso stiamo prendendo le misure il tavolo è a testa in giù per mettere l'hub non è un hub di ricarica è un hub di comunicazione e da quella parte lì la ciabatta questo è il lato del cp lui non va diciamo sotto al tavolo e quindi non si rischia con le ginocchia di colpire le prese quindi metto tutto dal lato del cp poi ti anticipo che verso il centro all'incirca ci sarà mamma mia che freddo che fa ci sarà l'alimentatore del hub e i due hard disk esterni a testa in giù stesso identico lavoro che si era fatto su scalosso con solo qualche modifica diciamo catastale essendo l'hub usb estremamente leggero cioè veramente meno di un pacchetto di sigarette oppure come un pacchetto di sigarette da venti ma secondo me meno gli mettiamo del silicone anche qua ci mettiamo lo scotch di carta lo lasciamo qualche ora asciugare intanto noi andiamo avanti con le altre cose ora stiamo procedendo al fissaggio dell'alimentatore del hub si è pensato di metterlo lì quella è sempre la parte del cp c'è un po' di spazio tra l'alimentatore e la zabata perché diceva Mirko se devi passarsi dei cavi o qualcosa lì hai una sorta di binario e vai bene questo alimentatore è molto molto leggero quindi pensavo secondo me è meglio dare silicone anche qua mentre su cose più pesanti tipo gli hard disk gli si rifà le staffe ma qua no basta silicone è proprio leggero leggero miseria Italia è arrivato proprio oggi l'inverno quando dobbiamo fare il tavolo per carità benvenuto inverno ma prima che mi dimentico intanto ti racconto come ho pensato la disposizione allora qua siamo sempre dal lato cp perché abbiamo detto il cp non tocca con ginocchia o altre cose quindi se arrivano ospiti lì è libero hai capito quindi benissimo abbiamo posizionato e già incollato lì l'alimentatore del hub e posizionato e già incollato qui l'hub gli hard disk ovviamente essendo la testa in giù vanno capovolti che non cambia nulla per la meccanica del disco però cambia che ci sono le griglie di areazione libere che così esce fuori l'aria e questo è il tutto non può tagliare con questa cosa effetto venerdì c'è ci stiamo portando dietro ancora il venerdì c'è non parlo più no mamma mia è tutta una non parlo più intenzione mi sembra non è rego mia e poi abbiamo il maestro valerio adesso eppà c'è la stia squadra avete visto? le robe le robe? martello 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 vabbè 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 i bambini questa questa spezia di gomma ad adesiva la mettiamo tra la placca di alluminio e l'hard disc in modo da ridurre le vibrazioni ma soprattutto per tenerla bella fissata dentro ecco italia allora ci mettiamo un pezzo di arma flex l'arma flex morbidissimo è quel materiale che si usa per isolare dal freddo e probabilmente anche dal caldo costa una barca da un occhio della testa perché un foglio costa sui 60 70 euro mirko quant'era il foglio che devo prenderlo anch'io 6 metri quadri si ma il prezzo vale però 60 euro e lo trovi anche su amazon no prezzo quello è quello ecco la perfezione vediamo adesso è perfetto perfetto ho scoperto che il tavolo di pulmino alle rotelle sotto per quando lo fai scorrere ha detto mirko aspetta perché bisogna metterlo bene in bolla sennò dopo i tu qua guardano e dicono ma l'ha fatto storto disco 1 praticamente posizionato diciamo non abbiamo badato all'estetica della stafetta ovviamente perché perché è completamente nascosta e a testa in giù non la vede nessuno hai capito stava numero 2 in progress ci siamo quasi poi vediamo se riusciamo a quasi quasi stavamo pensando di tagliare i cavi della corrente invece avere tutto sto cavo e mettere le fascette e farli direttamente alla lunghezza giusta esatto c'è spazio per tutto questa sarà la nuova disposizione del tavolo di pulmino vedi questa soluzione che continuo a riproporre degli hard disk sotto al tavolo ha due vantaggi allora il primo è di avere gli hard disk sempre a disposizione in quanto vengono collegati al lab il secondo è che ti liberi spazio nell'armadio che ogni volta andarli a prendere dopo giustamente di trovargli anche un spazio sicuro che non si sballottino eccetera eccetera poi c'è i cavi usb cavi di alimentazione tutto quanto hai capito quindi si libera un bel po e hai tutto senza occupare spazio perché alla fine qua non occupiamo zero spazio è tutto a portata di mano sempre utilizzabile sì ragazzi non è razzismo questo ma a cavolo il buco per avvitare la ciabatta proprio letteralmente sotto al cavo non si riesce cavolo tutta roba china sta qua sempre parlando di robe china o del venerdì 17 che ci stiamo portando dietro ancora da ieri due fascette eh sì esatto tagliando una passetta di plastica è partito il trenzino porca miseria roba che non occupo il can ecp porca miseria adesso siamo alla fase di passaggio dei cavi per poi cablare il tutto alla perfezione comunque la meno peggio in modo che si vedano meno cioè no che si vedano che non ci siano cavi che occupino spazio ma quanto brava sei sì allora sono andato a mangiare dei genitori di mirko no e cp siccome stavamo facendo lavori l'avevo messa lì che è il posto ambito il posto del capo noi in ciucate amore e lei si vede che è scesa per bere e ritornata nella sua cuccia cc titotti cosa ti è successo e amore si in ciucata eh si in ciucata adesso togliamo magari anche la pettolina così stai più comoda rieccoci qui pranzati stiamo riprendendo in mano visto che il venerdì 17 è passato la luce dell'armadio che non si capisce che funziona tutto però quando lo colleghi non funziona non vuole allora l'unica cosa appunto che io avevo detto può essere che conoscendo pulming i cavi positivo e negativo lo siano invertiti può essere l'unica roba mi viene da pensare poi eccoci qua guarda bellissimo bellissimo cazzo ma poi io finirò di fascettare sotto tutto quanto mettere le cose però bellissimo bellissimo gli uscirà praticamente il cavo usb che verrà attaccato al lab quindi qualsiasi cosa è tutta sotto un solo cavo usb e il cavo di alimentazione quindi solo due cavetti positivo con il negativo esatto italia è come sospettavo i cavi di pulming erano invertiti perché ne avevo trovati anche sulle luci di posizione fuori eccetera positivo e negativo invertiti e quindi esatto adesso funziona tutto quindi possiamo collegarli il piccio che è il sensore della porta aperta e chiusa e ragazzo oggi stiamo caricando a 0.0 ampere e 0.1 ampere questo sai perché perché quelli che ci sono sul tetto sono pannelli solari cosa dice la parola solari quindi hanno bisogno della luce del sole il fatto che tu fuori vedi chiaro quindi non c'è l'oscurità non c'è il buio non significa che c'è della luce solare sufficiente per far caricare i pannelli dei pannelli con magari senza queste questi misuratori che ti dicono gli ampere ma solo con la lucetta che ti dice carica e non carica certo possono darti anche il segnale magari anche sotto un lampione te lo confermo anche quelli di scarosso però l'energia reale che producono è nulla cioè praticamente inesistente i pannellini solari portati li insegnano che loro si ti danno la spia che stanno caricando ma se ci colleghi uno smartphone lo smartphone non rileva neanche la carica cioè non parte neanche in carica hai capito perfetto ragazzi allora io direi che proviamo step 1 accendiamo l'inverter tec cosa ho combinato non riceve corrente ho capito secondo me è meglio inserirgli anche il cavo ecco una volta inserito rileva che c'è corrente giustamente allora i dischi sono già collegati quindi da qui esce l'unico cavo usb che lo attacchiamo qua per fortuna ce l'ho sia a sinistra che a destra e adesso vediamo se me li rileva può essere che ho sbagliato qualcosa può essere che l'hub è disattivato perché aveva dei bottoncini andiamo a vedere permesso spostiamoci in cantina qual'era l'hub dove l'hub dove è nascosto ma c'è la lab allora può essere che questo eccolo la era disattivato adesso vedi il blu perfetto perché il bottoncino acceso spento per i gruppi di usb quindi adesso dovrebbe vederci già tutti e due gli hard disk a ecco vedi più anche il led del del sapino gli hard disk diamogli una giornata f5 eccolo la 1 e la 2 trovati tutti i due gli hard disk perfetto perfettissimo dopo lo proverò anche con le schedine cacchio figata bellissimo sta roba bellissima ragazzo strafigata cioè tu hai un solo cavo che ti esce poi vabbè il cavo di alimentazione penzolante perché come dicevo anche a mirko se vado tipo da clienti dall'alessia eccetera sto computer al disastro non dura e quindi devo avere sempre l'alimentatore quindi è un taca e stacca attacca e stacca insomma ecco prenderne due direi di no pesa un chilo italia curati che fascettazione vale che roba professional accidenti che figata e quindi da sta parte qua vedi nessuno tocca niente c'è solo dalla parte del cp ma il cp non va mai sulla tavola teni conto adesso per fare i lavori ovviamente l'ho schiacciata però poi la tavola va così e il cp proprio non la tocca minimamente sotto tenendo conto siamo stati anche un po più dentro sia con lab che con la presa e quindi no no perfetto perfetto adesso io sto passando un po tutte le prese come alcune che ho fatto sotto con queste fascettine vedi le ho preso amazon ma le trovi dappertutto sono dei raccogli cavi in plastica nera e adesso me le passo tipo anche nei cavetti la che vengono fuori dal motorino questo anche più che altro per un discorso estetico hai capito così viene fuori il cavo oltre vabbè protetto ma viene fuori un cavo unico e nero invece il nero e rosso che trovi quindi italia occhio occhio e allora c'è momentaneamente accesa la luce della doccia perché ci serve dopo per altre cose comunque occhio 321 tac è cazzo figata tutta la striscia led guarda la vedi anche da sopra bellissimo cazzo poi chiudi tac 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 grande mirco via ok allora adesso stiamo procedendo a rimuovere la striscia led bruciata bruciata perché ricordo è stata attaccata sul regolatore di carica 24 volte perché io non mi ricordavo o meglio non pensavo che dasse 24 volte anche alla lucetta invece riceve e da 24 volte è l'inverter che gestisce il tutto trasformato 10 ma il regolatore no da 24 quindi anche per il futuro quando leggiamo le i parametri di quanto caricano i pannelli quella sinistra è un pannello solo da 300 e passa watt a 24 volte il regolatore a destra sono i tre pannelli da nuvolo vedi qua abbiamo cattato una striscia led a 24 volte sì l'abitudine del cp a sta roba è cara dal signor proviamo no perché non va rispegne ma questo è a 24 quel regolatore quello 24 prova a schiacciare con la destra per conferma il regolatore a destra e accende la lucetta di servizio per uscire quindi a 12 quello quella sinistra quella 24 che faceva andare quella 12 bruciandola schiaccio io casomai il regolatore 12 e 3 come 12 non capisco no non capisco la striscia era difettata la striscia era difettata però è sempre andata la striscia fermi forse ho capito quella striscia andava con quel sensore di movimento che ha una sua batteria interna probabilmente quella non era proprio a 12 ma riceveva molto meno del 12 ok fatti ricordi che quando l'abbiamo attaccata facciamo molta più luce di quanta ne faceva quella dell'armadio collegata alla batteria infatti quella armadio giustamente è restato quel voltaggio si vede perché non ha aumentato di intensità può essere che si brucia anche quella dell'armadio provo a tenerla aperta vediamo se scalda provo ma secondo me no vediamo io sto aperto secondo me no perché aspetta perché non funziona quella non ha aumentato di intensità luminosa ecco non funziona ragazzi questa luce a led in questi giorni veramente non capisco non ne vediamo fuori tutta una tutta roba che salta no è impossibile ok bip 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 ok ok quelle lampadine lì che avevo le strisce che avevo sono 5 volte ok 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 allora italia riassunto perché prima ho detto delle imprecisioni allora sì quel pannello quel regolatore riceve a 24 ma da 12 la striscia che gli avevamo montato era 5 volte perché era quella che andava con la sua batteria piccolina difatti ho detto cacchio è una batteria del cacchio così e dura durava tanto insomma come come tempo no quindi allora adesso gli mettiamo una striscia normale a 12 volte non a 24 e idem dentro l'armadio ok allora adesso dopo aver bruciato la mia seconda luce 5 volte che ovviamente faccio reso ad amazon e installiamo intanto una lucetta a questa cosa la luce fredda no ok luce fredda qua e dopo per il letto tanto i cavi sono già tirati quella è l'unica cosa che so fare il positivo e il negativo me ne prendo una su amazon a 12 volte e me l'attacco basta eccolo è luce fredda qua buon I love you like fontina e bel modo Vai figari! Grazie a tutti.